Si E' nervosissimo questo cavallo Non parlo? Allora perché? Perché è nervoso? E' impaurito E' oltretutto dolorante dal fatto che hanno un po' più dura Cioè i cavalli sono arrivati assolutamente su di questo cavallo E' un po' più lungo, è un po' più lungo Allora Ah Allora 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 Grazie per la visione!